Salve la gente di Gabby e benvenuti su Among Us finalmente sul canale con un video Insieme a noi ci sono moltissimi youtuber italiani come 2PlayersOneConsole, Lorenzist, Sbreezer, Kenoya e molti altri Se non sapete ancora come si gioca ad Among Us c'è un impostore in mezzo a noi Siamo nello spazio e siamo dei polveri astronauti che devono riuscire a riparare la loro nave Ma ci sarà sempre qualcuno che cercherà di impedircelo e la nostra unica arma di difesa è La parola Oh cavolo non sono l'impostore santo cielo Allora ragazzi siamo in una partita di Among Us quindi stiamo attenti uno di loro potrebbe essere l'impostore Io cercherò sempre di andare con qualcuno a questo punto abbiamo un po' io di task tipo la swipe card Non devo rimanere da solo andiamo a navigation Lorenzo? Non è Lorenzo vero? Non fatemi fuori Maledetti c'è qualcuno che mi sta seguendo Ok andiamo qua Andiamo Oh hanno già trovato un cadavere Ma qualcuno qua ha un hater di Sbreezer Cioè cosa io vorrei Ragazzi vi dico subito quello che è successo Ci parla dal paradiso Ah io posso dire che Steph e te erano con me Ok grazie Marci anche io ho visto Marci Infatti io ho visto Marci vicino a noi e basta Qualcuno ha visto qualcosa? Io ero con Nico Punto e stavamo andando da destra e c'era anche Lorenzo quindi non credo fosse loro Allora il mio sospetto a questo punto dato che tutti erano con me è loco e Steph No io ero molto vicino a Steph cioè non per difenderlo però io vicinissimo avevo Steph e Marci Vabbè dai Skipiamo skipiamo non abbiamo ancora abbastanza elementi L'hanno passata liscia Questo non va bene Ecco siamo tutti in admin così posso fare la tessera della carta In tutto Oh cavolo Vi prego Dai fammi fare sta carta Fammi fa sta carta Ok Ora devo andare a Oxygen Quindi ho due L'hanno fatto bravi bravissimi bravi ragazzi Bravi ragazzi No Marci 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 Ho paura ho paura ho paura Ora qua c'è la Mad Bay Che però non la devo fare devo aspettare per quella Allora ho trovato Nico Punto Davanti alle telecamere Vicino alle telecamere Quindi a sicurezza Io ero da sola non avevo nessun attorno Anche io ero da solo Tu mi hai visto in admin Marci hai visto che non poteva E io ho visto Gabby in admin e Martina in caffetteria in alto Esatto E poi ho incrociato Gabby in admin Ho capito Lorenz dire io il reattore Aia Aia Io ero insieme a Loco Lokis Dietro E non c'era solo lui Mi state coprendo a vicenda E' vero Allora io me lo sento La pancia No io c'ho un potere in sto gioco La mia pancia mi dice chi è l'impostore E secondo me E secondo me Lorenzo Si sicuro che non deve andare in bagno? No 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 E comunque dobbiamo scaricare qualcuno adesso Vediamo Io farei Colokis Che Io ho visto Loco Lokis Che noia che stiamo Loco Lokis Ecco come Ok Io ho votato Io ho votato Mi fido di Gabby Io ho votato L'altro che mi avete votato tu Allora La pancia Mi fa fare meno La pancia Niente Gabby quando la sua pancia parla Va tutto alla grande Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Adesso devo stare attento Devo far tutto bene Tutto veloce Tutte le task Me le faccio io Qualcuno ha visto qualcosa? Io ho visto qualcosa Ho trovato un corpo reattore E Fere veniva da lì Fere veniva da lì Non è Fere Ti ho visto passare da quella parte Ma hai trovato un cadavere Secondo me è Fere Allora la pancia di Gabby non mette O è Lorenzo O è Fere Cioè Per forza Anche Lorenzo era da quelle parti Allora io Stavo guardando le telecamere Proprio in cui ho visto Proprio il momento in cui Gabby ha trovato il corpo Ok Quindi Gabby non può essere Ok E ho lasciato Steffi Nelle trine Però aspetta Che noia era a telecamere Che è vicino al cadavere Magari ha ucciso Boh raga Io La pancia secondo me Mi dice che è noia La pancia mi dice che è noia No no Sono io No ragazzi Tua pancia sta sbagliando La pancia dice Fere Quello è davvero l'intestino che sta sbagliando Dice altro Vabbè io voto Fere Dai io voto Fere Io voto Fere Io voto Fere Ragazzi poi votiamo subito che è noia Se non è No è Lorenzo allora È Lorenzo non sono io È Fere Aiuto Aiuto Aspetta c'è il reattore che sta esplodendo C'è il reattore che sta esplodendo No raga No raga il reattore Oh Abbiamo fixato Ora uno dovrebbe arrivare Ragazzi non sono io Ragazzi Ragazzi so chi è Sono sicuro al 200% Che è successo Chi è E loro insiste Perché che noia mi ha dato una mano a sistemare il reattore Ecco E io stavo venendo a sistemare anche il reattore No 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 Secondo me Stavo venendo con voi a sistemare il reattore No no vabbè allora è Lorenzo Vedi che che noia Mamma mia Ti avrebbe ucciso Se non ci fossi stato io dietro Ma Secondo me Oppure ste Tu Che noia Che noia a te confermi Quello che hai detto ste Che noia non poteva uccidersi Perché c'ero io Ma tu sei arrivato dopo Io potevo uccidere Sono un fantasma Però Secondo me avete ragione Lo dico Vediamo Ho sbagliato Lorenzo Sono fregati L'ore Viva 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 Nessuno Per adesso rimango in caffetteria Per adesso rimango in caffetteria Qualcuno ha tirato il birulino Qualcuno ha tirato il birulino Ok l'ha fixato Oh questo mi sta seguendo malissimo Questo mi sta seguendo malissimo raga Mamma mia ragazzi Che paura Mi stanno seguendo tutti Ho trovato loco davanti A medica All'infermeria Io mi ero perso cercando il posto dell'ostizio Allora ste era troppo in silenzio Io stavo facendo Ditti Però lui era troppo in silenzio Non lo so Ok Però questo è ghosting C'è nel senso Io mi ero perso Poi se Ferry mi voleva stare Vottami No non lo so No più che altro In realtà non ho abbastanza informazioni Era praticamente davanti a medico Ok in alto a sinistra Io ho visto che c'era Nico che veniva da ossigeno E poi anche credo Sbrizer e Ferry Sì 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 C'ero io c'ero io Oh Sbrizer comunque io ho fatto un blef Non ti ho visto E tu hai detto che c'eri No Tu mi hai detto tutto No Non ti ho visto io La pancia di Gabby Dovete capire Gabby è malato Gabby non sparare cavolatti Ora è arrivato davanti a te Gabby Vabbè anche io salto Vabbè io non ho abbastanza informazioni Guarda che mi ha votato Lorenzo È Lorenzo Lorenzo Avviatevi Ok ragazzi stiamo attenti Questa volta Potremmo andare in admin Ecco qua facciamo la carta Ti prego non uccidete Uh secondo colpo la carta Yes 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 Sto facendo tutto ragazzi Sto facendo tutto Sto facendo tutto ragazzi Sono una bestia questo gioco Ok Sembra tranquilla Perché dovrebbe stare lì Comunque tre volte Ma che gruppa Impressionante ragazzi Io vorrei dire che sono stato beccato senza ammattare nessuno Ero pacifico come impostore E' ucciso Gabby e Sbrizer Mamma mia lui sapeva che doveva liberarsi di me della mia pancia in fretta Se è partita Allora insiste votata a priori Ragazzi Sbrizer è sempre uno dei primi E basta Ma che cacchio Ma fai bene la voce da fantasma per quello Ok quindi Sì ma mai che sono l'impostore Porca trota Adesso tutti vogliono uccidere me perché ho la pancia forte Non devo vantarmi così Se è ancora Lorenzo guarda Se è ancora Lorenzo guarda Ora sto vicino a Lorenzo perché non può essere lui Un altro volto Porca trota Aiuto Che è successo Che è successo Aiuto Aiuto Non ci posso credere ragazzi Posso parlare Io ho notato una cosa strana Cosa hai notato signore Io la mia pancia ha visto fare Praticamente che ha chiuso tutte le porte Mentre ero con lei sotto a benzina Cioè quel punto centrale Aia Cioè si sono chiuse tutte ed ero da solo Cioè e mi seguiva Ho fatto giro giro tondo E sono scappato a malapena Aspetta ma Gabbi sentiamola Steph era zitta Fere Era bella concentrata Ma no ho chiacchierato Perfetto A meno che non siano in combutta loro due Sennò è un bel problema Comunque l'ultima volta che io ho visto Nico Era vicino a Fere Aia Questa è pesante Per darà cosa è pesante Magari non votiamo ancora Sì 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 Intanto mi skipperanno un coltello nella schiena Sbrisere Lorenzo Sbrisere Cosa fai Sto con Lorenzo Non può essere una terza volta lui Non può essere una terza volta Non può essere Sto con la gang di quelli che muoiono sempre Dell'assassino Non è lui Non può essere lui Ragazzi io ho visto Io ho visto che c'era Lorenzist Ma Sbrisere che mi segue sempre Io sulle palpitazioni È impossibile che sia Lorenzo una terza volta Poi io l'ho seguito tutto il tempo Raga forse Sbrisere è ancora vivo perché è lui l'impostore Boh io voto Ferre ragazzi perché mi ha chiuso anche prima E poi all'inizio Io ho chiuso da solo Io ho chiuso da solo Io ho chiuso da solo Perché mi ha seguito tutto il tempo No 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 fidatevi È fere È fere È fere Ma non ti ho fatto nulla Ok vabbè Io non ti ho fatto nulla No raga Ma non può essere Lorenzo raga Non lo so Non lo so Non lo so Se ancora Lorenzo veramente mi sparo Se mi segue Lorenzo Sì Sì Io vado a correre Io corro Io corro Io corro Io corro Basta Sì Ho visto Lorenzo Seguirmi in modo molto sospetto Anche a me Gabby Io ti seguivo perché c'è Sbrisere Che continua a seguirmi No Cioè Lorenzo Allora io sono andato giù E tu sei tornato indietro Per seguirmi Sì Cioè che cos'è sta cosa Che noia da guardare le telecamere E non era Mi stiamo facendo paura No io voto Lorenzo Se ancora lui veramente Quitto al gioco comunque Io voto Lorenzo Gabby Ma io cerchiamo la tua salvezza Mamma mia Se sei ancora te Veramente Basta Cambio gioco Ciao Vediamo Cosa Cosa Tenete d'occhio Fere Tenete d'occhio Oh mamma mia Fere lo difendeva Io non ho parole Non ci credo Non lo sapevo Non capivo niente Dalle telecamere No vabbè ma L'ultima volta L'ultima volta che ho visto Sbrisere Stava vicino a Fere Dalle telecamere A meno che non sia Dove farci che bleffa Ma sono tutto il tempo Le telecamere No no è Fere Comunque la morte di Gabby Nessuno te ne ha accorto Ma la morte di Gabby Mi avete gank Ma poi mi ha ucciso da un chilometro Cioè io ero attento Detto adesso mi viene E da un chilometro mi ha ucciso Assurdo Intanto mi sto creando gli alibi In questa partita Non bisogna far troppe robe Non bisogna essere troppo Troppo trollini Cioè bisogna star tranquilli Bisogna star tranquilli Devo anche far la roba del reattore Mamma mia Lorenzo Tette la meriti Ragazzi lo faccio a Lorenzo? Ragazzi questo è un colpo di scienza Ragazzi? Raga? Uh è morto subito a Lorenzo Nooo Nel mente non era lui Raga ho trovato il corpo di Lorenzo Cioè mamma mia stavolta Non era lui Una volta tanto E dov'era? Era sopra reattore Sopra reattore Ok Vicino c'era Nico punto Ok Io mi sembra Ma è passato Chi era sotto Chi era sotto Reattore Al reattore Mi pare Nico punto Io ho fatto l'emergenza del reattore C'eravamo Io e Fere sotto E sopra Io Io e Nico Io e Marci Io ho visto tutti in quella zona In realtà C'era anche Gabbia C'era anche Gabbia Mi regalato Sì infatti io sono andato dopo sopra E ho trovato il corpo di Lorenzo dopo un po' Io ho visto sicuramente Nico Ho visto sicuramente che noia che stava facendo l'emergenza Penso Allora io sono andato sotto Io No Io l'emergenza sono arrivato da sotto No io ero a fare l'emergenza Mi avete visto fare l'emergenza? Sì io l'ho visto ragazzi E poi Tipo Nico io con te mi pare Non so se ero con te O con Loco Tutto ad inizio game Sono andato in giro E Potevo killarti tipo un sacco di volte Se fossi stato io E non ti ho ucciso Non lo so Però io non voto Io non voto ragazzi Non lo so Allora schippiamo Però teniamo un occhio di riguardo su Loco Sì 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 E non lo so Secondo me anche Gabby Perché si è studiato bene Loro insiste Niente ragazzi Hanno sospetti su di me Non posso far fuori marci Perché altrimenti Mi trollano Quindi mi tocca far finta di fare altre cose Vediamo se sono mutato Ok Devo un po' sabotare Così sono costretti a non Andare Anzi Gli devo dimostrare Che sono una brava persona Vado sempre con loro Ok Perfetto Marci Marci Devo farmi amico anche Marci Devo farmi amico anche Marci Però stanno finendo le task Ok che a noi ha potuto informare che non sono io Stavo guardando le telecamere Ciao Allora Era già andato via Era già andato via ma è passato dal basso E può essere o Gabby o Loco Uno dei due perché poi erano in quella zona lì Ma io sono venuto appunto a sistemare l'ossigeno con te Era un buon tempismo non lo so Quindi io ho sospetti su loro due Gabby sinceramente no perché potevo uccidermi in admin e non l'ha fatto Quindi era facile poi beccarlo Io non ho idea vi dico la verità Non lo so Ho il dubbio Cioè possono essere tutti e nessuna Io non voto ancora Io quello che ho più visto da solo è Loco Cioè non l'ho visto tanto in giro Anzi era con Marci una volta forse Però infatti ancora non c'è stata l'uccisione Quindi potrebbe benissimo essere nel branco Mi puzzate Ok questo turno dobbiamo agire In questo ho agito molto tranquillo Proprio perché dobbiamo stare attenti E stanno facendo troppe task Quindi questo è il problema Che noia devo tenermela buona Perché può parlare con me Guarda anch'io telecamere Con e O almeno faccio finta Dobbiamo sbrigarci Dobbiamo sbrigarci Ok Guarda se viene fuori qui Perfetto Marci Ragazzi l'ho visto dalle telecamere Anch'io Vero Mi spiace Che avete visto? Vai vai What? Ma che cosa? Ma c'è una telecamera lì? In caffè? Evidentemente Mi voto pure io Mi spiace Guarda è troppo palese Almeno ho ucciso Lorenzo Il mio compito è finito Mannaggia Intanto posso sabotare Quindi posso continuare a rovinare la mappa Quindi se sono tutti qua Gli faccio andare in O2 Il sabotamento Intanto continuo ad aiutare in qualche modo Le varie cose Perfetto Andate il rattore Andate il rattore Andate il rattore Perfetto Così non vanno line E sono costretti a rimanere lì Perfetto Perfetto Lo sto chiedendo tantissimo Non me lo sarei mai aspettato Ragazzi Guardate avete visto che mira Ragazzi avete visto che mira Avete visto che cacchio di mira Ma sono 20 Proprio 20 Cattivissima Oh hanno già trovato un cadavere Chi è stavolta Ragazzi era lì davanti navigazione Io ci stavo andando Allora io c'ero Posso dire che c'ero Però ero sulla sinistra a fare la tasca E con me c'era Loco E quindi non credo fosse Loco A meno che non sia sceso da lì Quindi potrebbe essere o lui O c'erano altri due che sono scesi lì Però non mi ricordo i nomi Io mi sono fermato sopra A fare i meteoriti E Lorenzo mi ha visto fare i meteoriti Credo per un attimo Infatti mi ha guardato No io in ossigeno Eh ma potresti aver ucciso velocemente E poi hai fatto l'emergenza Secondo me è Loco Secondo me è Loco Me lo sento Me lo sento è Loco Me lo sento è Loco Non starò vicino a Loco Non starò più vicino a Loco È Loco Porca trota se è Loco raga Porca trota se è Loco Porca trota E non starò da solo con Loco Non starò da solo con Loco Intanto mi faccio un'altra tasca velocemente Senza morire male Parabon si pon si pon Facciamo l'ossigeno Facciamo l'ossigeno C'era Marci lì Non credo sia Marci Non credo Marci è troppo buono Per essere Scappa Lorenzo se torna indietro Guardalo 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 Eccoci C'è Lorenzo che mi continua a seguire in modo sospetto Chi? Lorenzo Martina è morta Tu pensi che io Ogni volta che Cioè vai giù Cambi direzione Appena mi vede Mi segui Dov'è morta Che noia Martina era con me Io Poi alla tua sinistra Io volevo dalle telecamere I più strani a muoversi Erano Gabi Lorenzist E basta Perché Marci Soprattutto Gabi Marci e Ferre stavano facendo tasche Sì Ci stiamo anche incrociati Vero Marci Sono sicuro Sono sicuro No Marci poter Allora Secondo me Gabi Gabi sta dicendo che Lorenzista apposta per coprirsi la vicenda No 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 Fidati fidati si è girato Io le certezze sono Marci e Ferre Se Loco siete sicuri voi Ok No non sono sicuro Poi che Steph inizia adesso ad accusare me così Magari vuole scaricare la colpa Boh Allora io ce lo sospetti Su Loco Steph e Lorenzist Ma prima Il problema è che Gabi c'è i sospetti su tutti Io voto Gabi Perché vorrebbe minare tutti Fidatevi non so Io farete l'errore più in grosso della vostra vita Fidatevi Votate loco Votate loco se dovete votare Ragazzi fidatevi Vabbè Vabbè Io ve l'avevo detto Io ve l'avevo detto No no Quando le mie tecniche di blef Grande Steph Sono riuscito a togliere tutti i dubbi su di me Vabbè Ma Lorenzo basta Oh Lorenzo ma cos'è E' taroccato il gioco Sempre lui Alle H C'è una cosa impossibile Ho fatto con i robux L'essere in pastore Dai Io e Marci Voglio essere io e Marci Voglio essere io e Marci Raga l'ho chiamato Oh bellissima Best team Best team E' un Oh Vabbè La vendetta sarà tremenda La vendetta sarà tremenda Ah c'è lì sono le luci Bravo Marci Bravo Marci Bravissimo Marci Bella Bella Secondo me Lorenzo Guarda lo dico di pancia Perché è sempre lui Io lo voterei a priori Giusto per levarcelo Dalle scuole Io lo voto così Ragazzi io ho un alibi Io ho un alibi E adesso Voi lo votate Voi tu che avete votato Fate voi Beh Beh questo è bullismo Io schifo il voto Se sei di nuovo te Veramente chiudo la partita Neanche la finisco E' Gappi E' Gappi Mi datevi di me Se non è Lorenzo Straga Ricordatevi queste parole E' Gappi No No Ho perso Lorenzo L'ho convinto che fossi tu Gappi Che vittoria E che avevo detto io Mamma mia Best duo Finalmente Un finale decennio Che avevo detto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.